Di Piero Giunta. Dopo la bella vittoria a Pergusa di martedì scorso, che l'hanno incoronato campione regionale a cronometro di categoria, ci è venuto a trovare nei nostri studi radiofonici accompagnato dal suo allenatore il giovane ciclista ispicese Giuseppe Garofalo, che si è concesso e emozionato alle domande del nostro Piero Giunta. Ascoltiamo. Come promesso abbiamo qui in radio Giuseppe Garofalo. Intanto complimenti per il titolo conquistato martedì scorso a Pergusa, campione regionale a cronometro di ciclismo. Giuseppe, che emozione hai provato a salire sul podio più alto per la prima volta? Intanto grazie, sono stato molto contento e finalmente tutti i sacrifici che ho fatto hanno avuto risultato. Sono molto contento e felice e ringrazio tutta la mia famiglia e Enzo figura. Per arrivare a questo traguardo c'è stato, Giuseppe, tanto allenamento, tanti chilometri e pedalate consumate. Cosa mi dici? Abbiamo incominciato la preparazione verso gennaio di quest'anno, poi invece la scorsa settimana abbiamo rafforzato gli allenamenti, concentrandoci di più sulla cronometro. Ci siamo allenati sul lungomare, che era una strada identica a quella del percorso, così da allenarmi meglio. Giuseppe, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Di sicuro portare a casa dei bei risultati nelle gare di convocazione per i campionati italiani, che si terranno nel mese di luglio e poi vincere qualche altra gara. Prima hai ringraziato il tuo allenatore Enzo figura. Giuseppe, ci sono altri ringraziamenti che vuoi fare? Oltre a lui voglio ringraziare anche tutta la mia famiglia e la famiglia d'Aquila, che è della squadra G6 di Almo. E soprattutto credo che questa vittoria sia meritata sia di Enzo figura, il mio allenatore, perché è lui che ha contanti sacrifici e si è dedicato a me lungo quest'anno e mi ha portato a questa vittoria. Quindi credo che questa maglia sia più sua che mia. Ringrazio Giuseppe Garofalo, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.